C'è preoccupazione fra i residenti della zona di Via Lago di Garda, dove ieri la Polizia Municipale ha fatto scattare indagini su alcuni bocconi sospetti lasciati a terra all'interno dell'area a sgambamento cani. Non sarebbe il primo caso di bocconi avvelenati Ravenna lasciati nelle zone appositamente create per gli amici a quattro zampe. Mentre si attende l'esito degli esami sulle polpette ritrovate, oggi portare a spasso il proprio animale non è stato facile. Tanta la prensione da non lasciare mai solo l'animale e da seguirlo in ogni situazione. Qualcuno invece ha preferito persino non uscire di casa. Di fronte all'area a sgambamento sono molte le villette che ospitano cani di diversa razza. Dall'altra parte del parco la situazione è analoga nei vari condomini. Ma mentre questi ultimi finché rimangono in casa e sono sicuri di non correre pericoli, il discorso è diverso per i primi. I residenti infatti hanno paura che i manigoldi, dopo aver buttato bocconi avvelenati nel parco, possano ripetersi buttando altre esche nei cortili delle abitazioni. E non sarebbe nemmeno la prima volta. Molti anni fa un cane della zona, colpevole secondo i suoi carnefici di abbaiare troppo, è stato ucciso con dei bocconi chiudati rinvenuti nel giardino dell'abitazione. Ma la paura non è solo dei padroni di animali, si estende a tutte le famiglie. Il parco di Via Lago di Garda, nei pomeriggi di bel tempo, è utilizzatissimo da bambini di ogni età, anche piccolissimi, alcuni frequentanti l'asilo nido all'inizio della strada. E le mamme non nascondono il timore che a trovare i bocconi possono essere propri bambini. Nel frattempo sono scattate le contromisure. In caso le analisi restituiscono la presenza di topicita nelle esche ritrovate, i veterinari hanno già messo a disposizione dei patroni di cani alcune pillole per contenere gli effetti del veleno, andate subito esaurite. Un veleno tuttavia subdolo, la cui assunzione diventa manifesta anche con diversi giorni di ritardo, quando ormai è troppo tardi, con l'animale che va lentamente indebolendosi a causa delle moragie interne. La seconda tipologia di veleno, normalmente utilizzata da questi manicoldi, è ancora peggiore. Effetti quasi immediati, con il cane che viene colto da convulsioni e muore dopo lunghe ore di agonia. Per ora, il cubetto di colore blu ritrovato nelle tre polpette di carne macinata dispersi in Via Lago di Garda fa comunque pensare al veleno per topi. Il materiale è al vaglio dell'Istituto Zooprofilattico.